bentornati divine divine sul mio canale oggi stesa della settimana dal 23 al 29 di settembre e quindi vediamo che cosa gli angeli ci dicono riguardo a queste energie della settimana chiaramente sono energie generali dico sempre prendete ciò che risuona che non risuona lasciata lasciate proprio scorrere lasciate andare però potrebbe anche servirvi una sola frase una sola parola che vi apre diciamo delle comprensioni più alte quindi possono guardare tutti non solo le fiamme gemelle queste letture perché le energie io lo dico sempre sono rivolte a tutti poi noi possiamo dare delle chiavi di lettura magari più specifiche per le fiamme gemelle ma sono anche proprio per altri tipi di relazione quindi ognuno prende ciò che risuona dentro di sé e nella vibrazione in cui risuona quindi non preoccupatevi che anche se non siete fiamme gemelle queste letture possono dare aiuto a tutti e allora vediamo un po che cosa sta accadendo dopo la eclissi plenilunio in pesci del 18 vediamo che cosa ci riserva questa nuova partenza tanti su linee temporali diverse alcuni addirittura su linee temporali più basse perché il portali si sono spalancati ma alcuni sono andati ancora a impelagarsi in situazioni karmiche quindi non si sono accorti dell'aiuto che stava arrivando hanno avuto paura dei cambiamenti e quindi sono rimasti arroccati a linee temporali più basse ma tanti invece sono saltati oltre e quindi si trovano di fronte a situazioni completamente nuove potrebbe anche esserci un periodo di passaggio quindi non tutti possono avere delle situazioni nuove che si profilano all'orizzonte ma ecco con i suoi modi con i suoi tempi l'anima manderà delle diciamo delle occasioni degli incontri degli eventi che vi faranno capire quanto veramente siete saltati oltre perché tanti possono aver fatto un balzo enorme per altri il passaggio può essere ancora magari non dico piccolino però il balzo c'è stato magari anche solo un gradino ma quello già apre a nuove possibilità che l'anima ha in serbo per noi quindi vediamo che cosa ci dicono gli angeli al riguardo poi vi ricordo che c'è ancora un eclissi di sole il 2 di ottobre e questo già smuoverà un pochino le cose guarda ci sono due intruse le mettiamo qua smuoverà un pochino le cose quindi siete in un passaggio nuovo siete andati su linee temporali qualcuno è rimasto fermo qualcuno è saltato sotto altri sono saltati in alto vediamo che cosa ci propone poi farò specificatamente un video sull'eclissi di ottobre e quindi andiamo a vedere che cosa ci dicono gli angeli riguardo a queste energie potenti che abbiamo diciamo manifestato nella nostra vita o stiamo manifestando nella nostra vita o siamo chiamati a manifestare ognuno in base al salto che ha fatto o non ha fatto quindi vediamo poi io dico sempre non giudichiamoci amiamoci a veramente più non posso però dobbiamo scegliere di lavorare su noi stessi perché se non facciamo questo lavoro interiore in realtà non ci amiamo perché non stiamo lavorando proprio per creare per manifestare l'anima sulla terra e questo amare al più alto livello possibile allora ok vediamo cosa ci manca ancora per chi è nuovo intanto saluto anche le persone nuove ovviamente bentornate alle persone che mi seguono da tempo situazione attuale energia in atto evoluzione per il maschile situazione attuale energia in atto evoluzione per il femminile quindi non sono tutte carte che vengono lette insieme ma ovviamente senza separazione ma con individuazione tra maschile e femminile e vediamo quali sono le indicazioni per i diversi tipi di energia perfetto e mettiamo ancora questa e poi procediamo alla lettura guardate che ce ne sono già due che escono perfette perfetto allora guardiamo solo che si veda bene sì sì dovrebbe vedarsi bene ma poi tanto comunque vi faccio vedere man mano che escono gli oracoli e procediamo maschile situazione attuale oh guardate qua c'è proprio la alleggerirsi qua c'è l'energia dell'anima che sta entrando in manifestazione guardate sono due oracoli che ci parlano proprio di manifestazione di qualcosa di nuovo fortunato perché perché libero dei pesi del passato qua c'è un maschile che sta manifestando delle degli incontri sta manifestando nuove intenzioni intenzioni che partono proprio dall'energia che il femminile crea e il maschile mette in atto quindi qua mi stanno dicendo che c'è un maschile che si muove dopo tanto lavoro su di sé qua guardate dopo tanto lavoro su di sé un lavoro fatto da solo quindi anche in distacco su quelli che sono i blocchi gli schemi ha completato un cerchio qua c'è un maschile che ha completato un cerchio perché ha fatto un lavoro enorme su se stesso e adesso guardate come manifesta porta in manifestazione un incontro guardate riconciliazione guardate qua ci sono riconciliazioni potete essere fiamme potete essere anime gemelle o situazioni carmiche ognuno nella vibrazione in cui si trova potrebbe esserci veramente per per chi ancora è stato in distacco riconciliazioni perché qua c'è proprio come dire è stato perdonato è stato portato in guarigione un'energia di sofferenza che arriva dal passato mamma mia che meraviglia allora un maschile proprio che si sta liberando dei pesi quindi qua è un maschile che lavora guardate è un maschile che ha innalzato il suo livello di vibrazione è un maschile maturo un maschile sano un maschile sacro che vuole manifestare in solidità in nuovo inizio quello che è appunto una relazione quindi vedete che c'è proprio la riconciliazione che viene messa in atto dal maschile questo fa parte proprio di persone che di quelle che hanno fatto il grande salto di evoluzione qua la linea temporale è stata presa quella più alta e non quella più bassa quindi qua c'è un maschile che ha innalzato diciamo quella che è la sua consapevolezza si sta occupando di tutte le cose che stanno ancora impedendo a livello pratico tutto questo ma è già pronto per la manifestazione infatti vedete che c'è ancora un pochino di attesa ma ecco è un maschile che sta andando oltre gli schemi guardate questi schemi di cui parlavo prima sono quelli su cui ha lavorato e su cui ha portato consapevolezza animica guardate il femminile il femminile entra nella vita del maschile e spinge a creare qualcosa di concreto riconciliazione con una persona con cui c'è davvero un desiderio enorme una chimica pazzesca ma anche una situazione animica molto profonda quindi guardate qua c'è proprio il desiderio il desiderio l'amore che c'è stato tra voi anche se c'è stato distacco ha condotto il maschile a fare un lavoro incredibilmente profondo su se stesso e vediamo come va a evolvere quindi qua ci sono riconciliazioni e ce l'ho detto proprio chiaramente chiaramente ritorni e riconciliazioni vediamo un po' eh sì è un maschile che ha affidato all'anima guardate la croce che era quella proprio che aveva portato alla separazione quindi qua ci sono dei miracoli che stanno accadendo proprio perché il maschile si è affidato all'anima ha trovato il suo equilibrio equilibrio ritrovato vuol dire manifestazione di nuovi inizi quindi ci vuole ancora un pochino di tempo per portare in consolidamento questo però ci sono nuovi inizi fate un respiro profondo perché l'amore arriva come un dono un dono per creare guardate relazione concreta duratura qua c'è un maschile che sta agendo per una concreta manifestazione della coppia qualcosa diciamo qui mi sta parlando di una coppia che ha già avuto un trascorso quindi ci possono essere stati dei passati magari anche di sofferenza di distacco di paure di qualcosa di irrisolto ora il maschile porta in manifestazione tutto qua è il dono che il maschile porta il maschile porta con sé un dono il dono il dono che è appunto se stesso manifestando però appunto quello che desidera di più al mondo che è proprio la coppia e infatti qua mi sta dicendo il duro lavoro che ha che ha fatto ha guardate manifesta il femminile il duro lavoro che ha fatto anche proprio sul suo femminile interiore crea l'unione del sigillo guardate qua questo fa parte di un maschile che ha superato chiaramente si chiama di maschile femminile che ha superato la la linea temporale bassa qua c'è il vento dello spirito che porta i quattro in manifestazione l'anima l'unione guardate che qui ci dicono riconciliazioni in atto unioni in atto ritorni in atto qua c'è proprio questa specifica vediamo il femminile asso d'acqua qua c'è un femminile che è nella nell'energia dell'anima ha rilasciato tutte quelle che erano le sue le sue paure i suoi blocchi è nella scintilla creativa dell'anima quindi a contatto con la sua anima guardate che c'è un femminile che ha fatto un lavoro incredibile io sto vedendo delle persone che seguo da anni e che stanno facendo dei cammini incredibili ogni tanto gli dico veramente stai facendo un lavoro pazzesco perché stanno rilasciando proprio tutte le resistenze le resistenze della mente le resistenze degli schemi i programmi ecco si stanno affidando all'anima e quando ti affidi all'anima tutto ciò che arriva fa parte del piano animico e anche le sfide vengono superate proprio perché c'è il desiderio di manifestare l'anima l'anima scorre l'energia dell'anima scorre scorre abbattendo i muri anche delle degli schemi delle situazioni del passato guardate anche situazioni di rilascio di schemi del passato di persone del passato e situazioni di situazioni d'amore che si realizzano che si realizzano perché si è lasciato il carico del passato alle spalle quindi qua anche il femminile ecco questa diciamo è più una lettura adesso poi vediamo le altre carte più mirata su coloro che hanno fatto il balzo di linea temporale perché probabilmente sono veramente tante ecco perché sono letture generali ma tantissimi hanno fatto questo salto tantissimi hanno manifestato questo invito del cielo a saltare su una linea temporale più alta quindi i portali sono stati spalancati la trasformazione è stata completata quindi qua guardate l'anima viene portata sulla terra mamma mia l'anima si manifesta tenete alte le vibrazioni anche attenzione guardate siate consapevoli testimoni delle vostre paure possono esserci ancora delle paure perché magari non vedo ancora il maschile che si manifesta ma lo vedrete molto presto perché qua il lavoro sulle ferite è stato portato a termine e quindi ci si apre immense possibilità dell'anima guardate quindi anche qua il maschile arriva qua c'è un maschile che è stato integrato è stato integrato ci si sente meritevoli d'amore e quindi chiaramente ci sarà la scelta ci saranno delle scelte ci saranno delle opportunità ci saranno delle occasioni che arrivano proprio anche dal proprio maschile quindi il maschile torna e vi porta a diciamo sotto la lente di ingrandimento una nuova situazione di riconciliazione di coppia di amore che sta a voi accogliere attenzione sempre in base a quale tipo di diciamo di linea temporale siete quindi se siete ancora in una linea temporale magari non come dire ancora in cui c'è ancora ci sono ancora sfide karmiche per carità ci sono ecco bisogna attenzione a non pensare di accontentarsi delle briciole perché se il femminile ovviamente manifesta qualcuno alla sua vibrazione quindi se siete ancora in una linea temporale in cui c'è ancora da lavorare sul karma ecco potrebbe arrivare ancora il maschile però con qualche blocco ancora così proprio come ce l'avete anche voi perché ci sono ancora situazioni karmiche da superare quindi attenzione a non accontentarsi delle briciole questo sempre perché il maschile è intenzionato a tornare ma poi dipende dal grado di maturazione che ha operato quindi ci sono proprio anche qui da essere molto consapevoli concrete attenzione non basta il ritorno bisogna vedere come ritorni ok perché qui effettivamente guardate il maschile maschile concreto arriva e si mostra finalmente questo questa storia questa diciamo questa questa relazione che è rimasta bloccata da tempo ora può manifestarsi perché arriva il maschile sacro qua per tante saranno anime gemelle e fiamme gemelle in cui c'è il ritorno il ritorno finalmente questa sinfonia è incompiuta viene compiuta viene portata a compimento magari il compimento appunto non ancora l'unione definitiva perché dipende da quale di quale vibrazione siete siete arrivati ma ecco c'è il ritorno la riconciliazione è il dono del maschile che si 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 dona ecco il maschile si dona perché appunto sono state rilasciate quelle che erano le paure e ora la concretizzazione porta la sovranità a essere vista sperimentata anche nel gioco dell'amore ma un gioco che è sacro non è un gioco di sfruttamento attenzione perché poi questo oracolo mi parla proprio anche a volte solo di flirt tra situazioni karmiche situazioni basse quindi c'è il gioco dell'amore ma non è un gioco d'amore è un gioco di karma in realtà mentre qua con delle carte del genere questo mi sta dicendo goditi questo amore perché comincia veramente tutta una nuova fase e infatti guardate che meraviglia cambia il nuovo arriva il matto ciò che non era contemplabile nelle possibilità della mente perché la mente è limitata karmica o comunque schematica qui ci si è liberati dei pesi quindi si comincia una nuova situazione in cui femminili siete nella vostra sovranità e quindi attirate a voi il grado di sovranità corrispondente quindi se siete arrivati veramente alla consapevolezza della sovranità arriva siete imperatrici questa imperatrice qua che il maschile vuole con sé tutta la vita attenzione però se la vostra il grado di sovranità ancora non è stato raggiunto chiaramente potrebbero essere ancora dei ritorni intermedi quindi attenzione a essere molto concreti e quindi avete creato il vostro mondo e ora cominciate a sperimentarlo prendete delle direzioni diverse guardate qua che meraviglia quindi una settimana in cui tanti di noi vedranno riconciliazioni ritorni soprattutto in situazioni sacre ma chiaramente non non è detto ci possono essere anche relazioni karmiche che tornano perché ci sono ancora delle sfide che devono essere superate attenzione che ognuno manifesta la sua il suo grado il suo livello di vibrazione quindi ecco io ho parlato di maschili maturati che hanno fatto un lavoro incredibile quindi questo riguarda soprattutto le relazioni di fiamma gemella o di anima gemella soprattutto fiamma gemella ma ecco ha vibrazioni diversi in modi diversi e ovviamente in durature come si dice in durata diversa ci può essere il ritorno anche in situazioni karmiche ma ecco nelle situazioni karmiche chiaramente il ritorno è finalizzato non tanto alla coppia in sé ma a imparare la lezione quindi qua il maschile fa dono di sé e il femminile chiaramente è pronto per questa nuova avventura guardate che è incredibile ma questa settimana che segue quest'eclissi già sta manifestando in tanti di noi delle potenzialità che nemmeno riuscivamo e osavamo immaginare e quindi chi è in questa situazione si goda questa meraviglia se siete in situazioni ancora in cui ci sono sfide quindi queste carte sono più diciamo più hanno una vibrazione più più leggera nel senso no in realtà più pesante la vibrazione più bassa quindi ci sono ancora sfide però ecco magari vi risuona in qualche modo sì in qualche modo no prendete solo ciò che vi corrisponde allora divine divine come sempre un abbraccio a presto